E' arrivata nella notte la notizia da parte della Regione Marche del risultato positivo di un campione analizzato nel pomeriggio del 25 febbraio. Il campione, proveniente dalla provincia di Pesero Urbino, verrà inviato dalle prime ore della mattinata di oggi al Centro Diagnostico di Riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità. Solo al seguito di questo secondo controllo si potrà effettivamente confermare il nuovo caso di coronavirus. Nel frattempo il paziente, residente a Vallefoglia, è stato isolato presso il proprio domicilio e si trova in buone condizioni di salute.